secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie casa tua, ti prego, prendimi tutta dopo mi racconti meglio allora, eccoci videogiochi in due è noioso, più semo meglio è simone vabbè, più semo meglio è giustamente semo un tanti qua ciao ciao buonasera con Rubino con Rubino già ci porto porco giuro va bene si, si, si mi paresti sesso con Nico? no, quanti anni ha fatto? no, 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 no niente, scusa un attimo non ho connesso non ho connesso per un attimo scusa, scusa chiedo scusa no, no, no ho sbagliato Nico, tranquillo perché appunto ma quando avrò 50 anni sarò ancora così poi sentiamo magari che peggiora ma sono così però ho 6 metri di roba se sei così se sei così 50 anni ti voglio io se sei così io sono gay ragazzo anch'io no tu? sì, no che territorio cazzo ma io rispetto anche gli etero ragazzi no, ma assolutamente cazzo no, ti spiego a me piace la vita mi piace molto la vagina e purtroppo nella mia vita ancora non ho sperimentato il sapore del pene però non si sa mai cosa vuoi che dire? se ti piace bene non so se voglio provare che non hanno un cazzo da fare nella loro vita di merda pancula gli haters oh la tua gerellina quanta romantica mi voglio fare una sega cula e allora chi è? no è Alessia pronto? ma perché mi dicono che mi stai insultando? no prendiamo la stazione no non voglio dire niente proteggete 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 oh i veterani negri di merda no no ma chi è sto cretino chi è sto cretino con le distanze massime è stato deficiente un cretino totale qua c'era l'arma fuori qua c'era un cretino totale rubi dei arzi io no avevo male il ginocchio è stato tutto tutto fighissimo io avviso tutti passiamo anche un po' la musica ragazzi avviso tutti di clippare perché voi non avrete mai letto una mail del genere nella vostra vita è qualcosa di una di una caratura secondo me allucinante quindi tutti pronti a clippare ciao tiktok ciao youtube saluto anche tu ciao mi è arrivata appunto una mail da giuseppe simone la mail esattamente è peppe simone vabbè la sua mail fai tu per esempio io qua potrei iniziare ho un io sai che sono prestigiatore con le carte mi piace fare magia con le carte qui c'ho un pezzo di carta che però con un piccolo colpo di colore potrei trasformare non da un pezzo di carta ma così a un a un a un mazzo di carte quello sì quello potrei trasformarlo il problema è che io non riesco mai a fare magia con i mazzi di carte blu dai ci sarà qualche ragazza di torino insomma c'è una qualche ragazza bella un po' disinibita che ha voglia di cazzo attento l'altro sembra che ti sto masturbando perché c'è il microfono davanti tra l'altro spostiamolo che magari è grosso eh ma così non mi si sente no ci si sente basta vedere così mi arriva in faccia però eh va bene non è che sai come piuttosto disgamo cioè nel senso indirettamente un po' come un un cugino con la cugina più grande che tu la io con mia cugina più grande quando ero bambino a nove dieci anni la abbracciavo perché lei aveva le tette grosse la abbracciavo e dicevo che bello capito quindi magari quando malabaci un po' fai sentire la presenza del tuo petto cioè questo ci può stare sì no? ci sta eh vedi già è capitato è capitato è andato un po' perché quando capisci il il meccanismo e e e c'è non so come dire ma arrivi che sai che manca tipo pochissimo che che eh eh un po' dillo vai dai dillo tranquillo oh è il mio problema dai tranquillo dillo e quando sai che a te manca pochissimo no? ok e e senti a te manca pochissimo